Oggi siamo con una nuova challenge La mia challenge perché l'ho inventata io E quindi se volete rifare questo video non potete Se no vi denuncio non rubarvi le challenge che trammazza Omicitate Anche devo omicidio In cosa consiste questa challenge? Bene, dovremmo far indovinare nelle parole Attraverso paint La nostra infanzia I mezzi nuovi tecnologici Quando avevamo 7 anni ragazzi non esistono i giochi per il computer C'era paint per divertirsi E per masturbarsi anche Yeah! O pento solitario Aspetta per divertirsi Non per masturbarsi solitario Mmm una donna di picche Mmm gnocca! Comunque le ho cominciato Dai che ti viene bene. Ok ma è facile E' un cazzo Andrea non so come è il cazzo tu ma di sicuro Il mio non è così Scodella Imbuto Vc l'ho detto io eh ci siete vicini Tavoletta no deve essere la parola giusta Scarico no e appoggia Gabinetto Gabinetto Si ma l'ho indovinato io vc minchia 8 ore fa Allora la mia è bellissima Marijuana Lega Nord Alien No Un teschio La padania Salvini No Non è sicuro quindi potrebbe essere Salvini Dai non potevi domandami nel mio concentro che vi rispondo a caso Bombi No Un alieno e ti? Si ok è un alieno ma io voglio la parola giusta abbiamo detto no? Extra comunità Extra del resto volevo dire Marziano Si Ma vaffanculo E' Marte esatto E' Marte è uguale Aspetta scusa Andrea non lo riconoscevi Ah il Giappone Il Giappone è sfasata Ok Ehm Questa non è per nulla facile E come la metto giù Datemi un nero Sempre Sempre colori a Lady per Camper Andai a questi gusti Barca Barcellona Titanic Ehm Condom Concordia Ok Ammaraggio Si spacca la barca sugli scogli Torni a bordo cazzo Schettino No Nave da crociera Scattino No Questa che cosa è una? Crociera Nave da crociera Ehm Adesso ne ho capito Ammaraggio Si insabbia No No Perché qui c'è uno spazietto Camper Devi tapparlo Ma vaffanculo Allora farò un'altra cosa Dov'è il pennarello Questa è l'acqua Va bene? Ok L'orizzonte è visto così Per caso Per caso Chi guida la barca Ce l'ha la MN Mulinello Per uscire da questo casino E qui cosa c'è? Uno scoglio Una spiaggia Detta anche Banchina Riva Bagnasciuga No Terra No Non è che se la riempie ancora di più ci aiuti eh Come si chiama questa? Concordia Costa Ehm Quindi questa è? La costa Ora immaginiamo Costiera Si? Ci sei arrivato Spiaggia costiera Guardia costiera Si Volevo fare un omino col fucile La guardia costiera E allora dov'essi aggiungere un gomone e non la concordia Ehm vabbè E perché la concordia è costa concordia Poi Andrea La costa costiera Hai sbagliato Lomino nero non è qui Ma qui Leo Non si dice Posso disegnarlo Ce la posso fare L'insostenibile leggerezza dell'essere ha trovato come parola Ehm azzurro Sto creando Un uovo Persona molto felice Perché blu? Simson No aspetta 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 sto creando C'è il blu è venuto per sbaglio Ah ok Cos'è? Cos'è? Che è una maschera Un'anatra Ho capito ho capito Un'anatra Una papera E' il respiratore di ossigeno Sembra animal lecter Esatto Ammalato No Malato terminale Aereo sol Eccolo Ecco il suo Vaffanculo Adesso facevo il tubicino Attaccato alla macchinetta Malato terminale Però sono proprio la papera In effetti la carnagione blu poteva trarre l'inganno Era proprio malato terminale Ok Mega easy Porco L'insieme del tutto Tete Quando non c'era la connessione era così che Si masturbava da piccoli Sono tete LOL No no vabbè L'era c'era Donna Si Io non ti ho mai commentato niente Ma con che donne vai Cioè io non vorrei dire mai degli strani gusti E' Mazinga Z E' Mazinga Z E' Mazinga Z E' Mazinga Z Aspetta Aaaaaaah E' Mazinga Z Ok vediamo se ci arrivate Questa è simpatica Allora Piramide di Ghiza Africano Vucun Prani Spazzacamino Che cazzo ha in mano? Vende albri di Natale per caso? Allora capisco un articolazione che è così Eh eh Quindi Disarticolato Rottura Frattura multipla Frattura scomposta Cos'è questo? Braccio rotto Braccio rotto erano le parole Erano le parole Orgocane ha fatto un po' di gente Questo Gli aveva tirato sotto il rullo compressore che gliel'ha allungato C'è anche Paint 3D? No No Noi rimaniamo fedeli a Paint Prossimo episodio su Paint 3D Facciamo I videogiochi Guarda Anche io riesco a farlo in 3D Eeeh Eeeh Wow Sembra quasi vero Aiuto mi sta attaccando Ce l'ho ce l'ho eh Allora Devo fare i colori se non capite Orca miseria Piano inclinato Salita Deserto Cactus Punto di fuga E viale coi cipressi No Ci sono quasi Viale alberato Sto creando Vigna Eh? Vigneto Vigneto Ma vaffanculo Prendi un'immagine di un vigneto e metti la vicina a lui E' lui Hai ragione Tocca a me Dai tira fuori sta parola Eeeh L'ho letta Non so Anche l'ho letta Eh vabbè Sei così Mare Oceano Una banana nera in mare Salva gente Gommone Onde sonore di una banana Giovanni per dio Cosa stai facendo Naufragio No Sommozzatore Sub No Per sub No Pinna Ah no non c'ha i baffi Immersione Wuhu Figami cos'è quella cosa che stai facendo adesso Il boccaglio Perché il boccaglio parte dal cervello Sembrava molto Sheldon Cooper in questa risata Da parte l'asma Allora Non farò intendere troppo ok Pene Dovrò disegnarlo Uomo Circoncisione Peli pubici No Peli a forma di freccia Testicolo Scrotto Schiacciarsi un testicolo No Castrazione No E un uco No allora Ok ho un altro disegno in mente Ecco un'operazione Fermi 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 Allora Il solito minoficano Si Questi cosa sono Pesofilia E E La scrivo No Puoi darci un'avvocata Facciamo un'impiccato Facciamo un'impiccato 6 lettere e una piccola Sono 7 quelle 7 lettere Fertile Se non è fertile cosa De fertile Madonna Mi sto per bestemmiare Metti la lettera finale È la E Eh sì che è la E Beh non è ovvio Sterile Eeeh Mamma mia Visto santo che fatica Come lo disegno Vai è questo il bello Leo di questo gioco Lo faccio viola perché il mio è viola Pene di gomma Dildo anale Profumo No Shampoo No Bagnoschiuma Saponetta No Bomboletta spray No Detergente per gli occhiali Dentifricio Eeeh Colluttorio Detto io È una bocca non vedi Si no si vede si capiva si capiva Una bocca Colluttorio Non si fa Non si fa Ma Andrea era un omino che chiedeva in sposa Esatto Andrea cosa hai capito Qui c'è un diamante Tutti felici Così È spasticato Boh io sono tutte uguali le parole vabbè Ragazza Collana No Clitoride Ecco non questo ma questo .g Vabbè Qui c'è l'ombelico Eeeh Qui c'è le braccia Qui c'ho le gambe Capezzolo, seno, tetta, diciamo quasi, mammella, bravo Leo, se vuoi una copertina fammi riprenderti con delle tette questa è perfetta Facile, cosa era tutta questa perplessità, cerchio, stemma dell'olimpia, pupazzo di neve, pupazzo di neve Intersezione Testicoli Collap Cosa cerchi Quando vedi un otto hai fatto matematica e quindi pensi a intersezione Ragazzi che dire, spero che questo video vi sia piaciuto, arriviamo a 20.000 like per altri episodi Perché strano ma vero è divertente E' talmente stupido e facile A 30.000 like lo facciamo con paint 3d Cioè facciamo questa cosa qui, non avete capito Per fare altopiano Simile mappa di fortnite Facciamo questo disegno qua Quattro giorni per una parola Io ringrazio Leo per aver partecipato a questo video dal camper E' tutto, noi ci vediamo Come? Come ma con un prossimo video Come ma con uno Ti voglio Come ma con uno